Ciao amici value investor, se siete investitori di lungo termine in azioni la cosa più importante nel fare stock picking è quella di scegliere aziende che possono resistere agli attacchi della concorrenza perché vogliamo assicurarci che queste aziende continuino a fare meglio della media del mercato per diversi anni vogliamo aziende che possono sopravvivere alla spitatezza del capitalismo perché nel capitalismo, lo sappiamo bene, se c'è un'azienda con un bel modello di business la prima cosa che farà la concorrenza è cercare di imitarla, avere una fetta della torta o possibilmente tutta e in questo libro Seven Powers di Hamilton Elmer, vi lascio il link in descrizione, ci sono ottimi consigli su come riconoscere questi business super resistenti e al centro del libro c'è il concetto di potere, power, inteso come la capacità di un'azienda di generare profitti costantemente superiori alla media ed Elmer sostiene che ogni azienda deve creare questo potere per sopravvivere a lungo termine e in particolare lui individua sette tipi di potere o vantaggi competitivi e ognuno di questo potere riesce a dare un beneficio all'azienda che lo possiede e allo stesso tempo essere una barriera all'ingresso per i potenziali competitor e il primo dei sette poteri che potete trovare sono le economie di scala che in parole semplici si hanno quando all'aumentare della produzione il costo medio per unità di prodotto tende a diminuire pensate ad esempio a Netflix che deve spendere ogni anno una barca di soldi per realizzare le sue produzioni cinematografiche ma a differenza della concorrenza può spalmare questo costo fisso su un numero di gran lunga superiore di abbonati quindi il costo di produzione per abbonato è molto più basso di quello della concorrenza e questo le permette di avere prezzi più competitivi e o avere maggiori margini di guadagno e questo è il beneficio di questo potere che crea anche però una barriera all'ingresso perché se qualcuno volesse fare concorrenza a Netflix spendendo miliardi per produzioni di pari qualità non avendo lo stesso numero di abbonati su cui spalmare questi soldi sarebbe proibitivo dovrebbe fare o dei prezzi troppo alti perché il costo di produzione per abbonato è molto più alto e quindi sarebbe fuori dal gioco in automatico oppure dovrebbe vendere in perdita e se non trovi un modo per diventare profittevole in tempi ragionevoli tiri le cuoia il secondo potere sono le economie di rete o network effect secondo cui il valore di un network di una piattaforma aumenta all'aumentare del numero di partecipanti pensate ad esempio a Facebook e Instagram che sono di gran lunga i social media con più utenti questo da un lato genera per meta un beneficio cioè poter chiedere per le sue ads prezzi più alti perché le aziende possono raggiungere un numero più elevato di persone rispetto ad altri social media e in più è una barriera all'ingresso perché posso avere anche il social media più geniale del mondo se c'è poca gente sulla piattaforma farò fatica a competere con meta perché la gente va dove c'è il maggior numero di amici, parenti, conoscenti, creator e di conseguenza contenuti non va sui social poco usati dove non c'è nessuno e c'è poco da vedere e su cui di conseguenza si può interagire poco uguale per YouTube di Google vado su YouTube e non su Vimeo perché su YouTube c'è molta più offerta, molti più contenuti Terzo potere è il counter positioning è una strategia che viene utilizzata da un nuovo entrante nel mercato per competere con un'azienda già consolidata invece di cercare di competere direttamente con l'azienda consolidata offrendo lo stesso prodotto o servizio l'azienda entrante si posiziona nel mercato in modo tale da differenziarsi nettamente dalla concorrenza questo può essere fatto in diversi modi ad esempio offrendo un prodotto o servizio innovativo che soddisfa un bisogno diverso dei clienti concentrandosi su un segmento di mercato specifico che non è ben servito dall'azienda consolidata o adottando un nuovo modello di business completamente diverso e per il business consolidato il problema di imitare il nuovo entrante è che ha il rischio di dover ridurre in modo importante il valore del suo business o addirittura distruggerlo prendiamo ancora come esempio Netflix Blockbuster era l'azienda consolidata nel mercato ma Netflix aveva un nuovo modello di business lo streaming Blockbuster avrebbe potuto trasformarsi in piattaforma di streaming e imitare Netflix ma avrebbe dovuto distruggere i centinaia e centinaia di negozi che aveva sparsi in tutto il paese avrebbe dovuto rischiare di distruggere il suo business senza sapere se poi l'avrebbe spuntata quindi non l'ha fatto ed è morta perciò questa è la barriera all'ingresso il beneficio per chi usa questo potere è che avendo il dominio nella sua nicchia riesce a praticare prezzi più alti perché la tua offerta è percepita unica e di valore dai clienti e o ad avere costi più bassi perché se è specializzato fai solo una cosa ma fatta bene altro esempio può essere Tesla quando ha iniziato a fare auto elettriche un business che era ancora una nicchia molto piccola del mercato le car company legacy come Ford, General Motors o Volkswagen non le sono venute dietro perché la nicchia era troppo piccola ci sarebbero voluti troppi investimenti con ritorni probabilmente non adeguati e avrebbero dovuto distruggere parte del loro business con nuovi impianti di produzione per le EV e fornitori specifici per produrre EV tipo fornitori di batteria ad esempio e voi sapete bene invece quanto sia importante la standardizzazione dei processi produttivi per queste aziende quindi Tesla prima ha goduto di questa barriera all'ingresso e nessuno le è venuta dietro per molti anni dandole il tempo di sviluppare prodotti di alto livello e crearsi un brand che ha poi potuto monetizzare alla grande e ha potuto sviluppare economie di scala specifiche per le auto elettriche quindi è diventata anche molto efficiente nella produzione di questi veicoli e quindi ben profittevole quarto potere è lo switching cost letteralmente costi di cambio e sono quei costi che un cliente deve sostenere per passare da un fornitore di beni o servizi a un altro e i costi possono essere di penali se si recette dal contratto di tempo necessario per dover imparare ad usare il nuovo prodotto o servizio costi di installazione rischi che qualcosa vada storto durante il passaggio al nuovo fornitore rischi di non trovarsi bene con il nuovo fornitore eccetera quindi questi costi e rischi rappresentano un importante disincentivo a cambiare e quindi una barriera all'ingresso e danno il beneficio a chi ha questo vantaggio competitivo di poter praticare prezzi più alti per un prodotto o servizio simile a quello della concorrenza alcuni esempi sono le aziende di software le SaaS come Adobe e Salesforce è difficile cambiare perché devi formare il personale sul nuovo software hai sul loro cloud tutti i contenuti fatti in passato le automazioni di marketing o i dati dei clienti hai configurati i plugin con applicazioni terze hai la compatibilità con il loro ecosistema di programmi eccetera quindi è davvero molto difficile decidere di cambiare quinto potere è il brand e questo potere si verifica quando un gruppo di clienti è disposto a pagare di più per un determinato brand perché hanno una percezione di più elevato valore della sua offerta anche se magari il prodotto o servizio non è tanto differente da quello della concorrenza quindi come beneficio o che posso praticare prezzi più alti e come barriera all'ingresso o che la concorrenza per poter costruire un brand capace di competere con il mio ha bisogno di molti anni e di tanti investimenti quindi c'è una barriera all'ingresso a livello di tempo e costi non indifferente alcuni esempi sono Apple o Ferrari sesto potere cornered resource sono risorse uniche, rare o difficili da imitare che un'azienda possiede o a cui ha accesso esclusivo queste risorse conferiscono all'azienda un vantaggio competitivo significativo e le permettono di distinguersi dai suoi concorrenti come ad esempio terreni particolari con materie prime molto richieste ma queste risorse possono essere anche dipendenti o un CEO incredibilmente talentuoso lo Steve Jobs di turno o anche relazioni privilegiate con alcuni fornitori strategici o con il governo oppure semplicemente brevetti che mi permettono di avere prodotti e tecnologie in esclusiva quindi per questo ho barriere all'ingresso e i vantaggi derivanti possono essere la pratica di prezzi più alti o avere costi di produzione più bassi quindi gli esempi più lampanti sono le aziende di estrazione mineraria o petrolifere che possiedono le miniere e i terreni o hanno la licenza in esclusiva di estrarre da quei terreni oppure aziende che possiedono o hanno in esclusiva il diritto di utilizzo di linee ferroviarie, autostradali eccetera e poi ci sono le aziende farmaceutiche che hanno brevetti sui farmaci settimo potere, process power, il potere dei processi questo è un vantaggio che hanno le aziende grosse e mature che hanno costruito sistemi per produrre in modo più efficiente cioè hanno costruito un'eccellente supply chain processi produttivi all'avanguardia una rete di distribuzione impareggiabile un reparto di ricerche e sviluppo eccezionale eccetera e quindi riescono ad offrire prodotti e servizi superiori e quindi farsi pagare di più e a produrre a prezzi più bassi e chiaramente la concorrenza fa molta fatica ad entrare in competizione con le aziende che hanno questo potere alcuni esempi sono TSMC nessuno produce quei chip di quella qualità in modo così efficiente perché hanno alle spalle decenni di know-how macchine di produzione litografiche super avanzata ricerche e sviluppo specializzata sui chip fornitori specializzati i giusti clienti con cui lavorare e fare ricerche e sviluppo eccetera oppure pensate a Walmart che ha una rete di negozi impareggiabile di fornitori impareggiabili una logistica incredibile e ovviamente vale lo stesso per Amazon o anche BYD che è la car company più integrata verticalmente al mondo e riesce così a creare auto all'avanguardia a prezzi imbattibili e replicare quello che ha fatto BYD è davvero molto molto difficile questi erano i sette poteri ma cosa è importante sapere è che questi poteri vanno perseguiti sviluppati dall'azienda in una specifica fase della sua vita perché i poteri di cornered resources e counter positioning sono la strategia da perseguire nella fase di lancio di un'azienda perché devi avere qualcosa di esclusivo per entrare sul mercato o una strategia che non ti faccia andare in diretta concorrenza con i colossi e non puoi avere già altri poteri nella fase di lancio come ad esempio non puoi avere già il potere del brand visto che servono molti anni per crearne uno oppure le economie di scala se è ancora troppo piccolo quindi una volta che hai creato almeno uno dei due poteri nella fase di lancio dell'azienda devi perseguire la creazione di questi altri poteri quando sei nella fase di crescita questo deve essere il focus del management avere almeno uno di questi poteri in questa fase e infine nella fase di maturità puntare ad avere almeno uno di questi due poteri perché sei ormai abbastanza grande da poter avere process power o un brand molto forte quindi in base alla fase della vita in cui si trova un'azienda dobbiamo individuare determinati vantaggi competitivi e assicurarci che il management stia facendo di tutto per svilupparli nel circolo dei value investor quando analizziamo un'azienda infatti la domanda è sempre quella qual è il vantaggio competitivo che ha questa azienda e quanto è forte e duraturo questo vantaggio e cosa sta facendo il management per rafforzarlo se è focalizzato su aumentare questo vantaggio competitivo quindi se cercate esempi di aziende con moat forti e durevoli vi invito ad entrare nel circolo dei value investor in nostro gruppo discord perché di aziende ne abbiamo analizzate centinaia e sicuramente troverete tanti spunti di riflessione interessanti per partecipare al gruppo vi basterà supportarmi con un piccolo contributo su Patreon vi lascio il link in descrizione un like al video se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao da Davide